Qualche giorno fa l'ennesimo incidente, stavolta provocato dall'attraversamento di un cinghiale che ha causato il ribaltamento di un furgone e il ferimento di sei persone. Da domani di nuovo ruspe al lavoro in orario notturno per la ripavimentazione della sede stradale all'interno della galleria, con relativa chiusura al traffico dalle 22 alle 6 del mattino. Continua a restare al centro delle cronache la statale Contessa, principale direttrice viaria con l'area del Pesarese del Riminese e della provincia di Perugia. Dopo mesi di traffico particolarmente intenso, soprattutto per la temporanea chiusura del viadotto Puleto lungo l'Ai45, l'arteria che da Gubbio conduce nelle Marche resta al centro dell'attenzione sebbene non figuri in cima alle priorità del piano trasporti regionale. Ma ora un'altra ombra grava sull'immediato futuro della Contessa, che da due anni è tornata alla diretta gestione di Anas nel tratto Umbro. Da tre anni lo è in quello marchigiano, oltre il bivio di Ponte Riccioli. La società RPA, infatti, sta conducendo in questi giorni accurate verifiche tecniche per conto di Anas sulla congruità e staticità del viadotto che dal primo tratto della statale conduce alla galleria. In più occasioni è stata segnalata la visibile presenza di alcune crepe o segni di logorio della struttura di base. All'indomani del crollo del Ponte Morandi si è alzata la temperatura intorno a situazioni come questa con allarmi diffusi, talvolta infondati, talvolta reali. Da allora la pianificazione di controlli a tappeto, che ora riguardano anche il Ponte della Contessa. Se sorgesse un problema, se venisse verificato un rischio con possibile chiusura del traffico, sarebbe una vera iattura. A lanciare l'allarme l'ex consigliere comunale ed esponente di azione socialista Giuseppe Brunelli, da sempre attento osservatore delle dinamiche istituzionali intorno alla viabilità del territorio. Il rischio è reale, dice Brunelli, che torna a riproporre. La necessità di valorizzare il progetto di ammodernamento della Contessa, finanziato ben 15 anni fa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, è rimasto chiuso in un cassetto. Negli ultimi giorni anche il Comitato Ultimo Treno, nel suo appello al nuovo assessore regionale all'infrastruttura Emela Secche, ha richiamato la priorità di un ammodernamento della Contessa. Su questo asfalto transita un alta percentuale di traffico merci dall'Umbria all'Adriatico, solo parzialmente bilanciato negli ultimi anni dall'attivazione della Foligno Civitanova e in attesa del completamento della Perugia Ancona. Per non parlare del fisiologico aumento di flussi automobilistici nei mesi estivi, dovuto al traffico verso la riviera in ogni fascia oraria. Nelle Marche la mobilitazione istituzionale per dare una spinta alla Contessa è ancora più sentita, con molteplici iniziative di regione, provincia di Pesaro e di alcuni sindaci del territorio, da Cagli fino a Fano. Per completare la Fano Grosseto servono 2 miliardi di euro, ricorda Brunelli, per ammodernare la Contessa e ottenere lo stesso risultato. Un miglioramento della cerniera strategica Umbria-Riviera Adriatica basterebbe un decimo, di quella cifra circa 200 milioni. sperando che nel frattempo il suo viadotto non conosca il destino del Puleto.